Davvero un libro, a parte che si legge molto bene, bello, già che grande è così, anche per noi ceccati è bello da leggere. Una storia molto conosciuta in ambito fisiologico è quella che vede protagonisti un gruppo di reglisti a cui viene chiesto di mantenere fino all'esaurimento una potenza nota di 242 Watt su un ciclo mulino. Questa potenza rappresenta per quei reglisti la potenza aerobica media di picco del gruppo. E voi mi chiederete cosa spinge questi reglisti a effettuare uno sforzo così importante? Beh, semplicemente delle sterline che oggi dopo la Brexit valgono circa il 30% in meno. Non vi racconto come va a finire la storia e nemmeno perché questa cosa sia importante. Sappiate però che di queste storie ne troverete un'infinità nell'ultimo libro di Daniele Lucchi, Run, parte 1, nel quale si parla di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. E voi mi direte ancora, ma c'è bisogno di un altro libro sulla corsa? Ci sono già quello di Pizzolato, ma è del 93, ce ne sono diversi interessanti di Massini, ma da un punto di vista utile soprattutto ai neofiti. C'è pure quello del compianto Arcelli, oltre ovviamente a quelli di Albanesi, ma l'ultima edizione del 2014. Infine ci sono i libri inglesi di cui ogni tanto parlo qui sul canale. Quindi sì, la risposta è c'era bisogno di un altro libro, e in effetti ci sono quattro ragioni per comprare un libro così, e una sola, ma solo una, per non farlo. In primo luogo la profondità dei contenuti. Prendiamo per esempio il capitolo del lattato, qual è la differenza tra lattato e l'acido lattico, come fare a testare il lattato, quali testi dovrebbero fare per determinare le soglie, cosa sono le forze contrapposte di Olbrecht. Tutte queste cose vengono spiegate con degli esempi concreti, ma sappiate che non è soltanto la profondità di un argomento che è rilevante, perché tutti, tantissimi argomenti vengono trattati. Prendiamo per esempio il test di T e P. E chi sono costoro? Sono semplicemente due podisti che nel 2018 corso in 3 ore 09 la Maratona di Ravenna. Anche qui non vi vado a raccontare come è andata a finire, ma questa è la seconda ragione per cui io ho amato il libro Run di Daniele. Ha sia un aspetto pratico, sia uno teorico, che non troverete da nessuna parte, se non forse, ma solo forse, qui sul canale. Tra l'altro l'iscrizione del canale e l'attivazione delle notifiche sarebbe per me davvero top. La terza ragione per acquistarlo, e ammetto sono di parte, sono le 50 pagine dedicate alla mente. Si è vero se leggete Nox, avete bisogno di pazienza e molto concentrazione. Sia chiaro, Nox è il maestro, ma Lucchi spiega in maniera chiara quali sono i fattori fisici, mentali e motivazionali che influenzano la fatica. Io tra l'altro, a proposito di influenza, non mi devo far distrarre dal coniglio, che sicuramente porta nuovi iscritti al canale e consente a tutti voi di avere un momento di divertimento, ma sicuramente ha una fonte inesauribile di distrazione. C'è un quarto fattore che vi dovrebbe spingere a comprare il libro, tra l'altro vi metto il link qua sotto nel caso fosse interessati. Lucchi parla di tecnologia, discute di potenza nella corsa, di misurazione del carico dell'allenamento, di variabilità del battito cardiaco, di dinamica e biomeccanica di corsa, di HRV for training, di stride, chi più ne ha più ne metta, di tante altre cose che in 300 pagine di libro troverete condensate, ma in maniera assolutamente interessante e scorrevole da leggere. Tra l'altro c'è pure un capitolo finale dedicato all'alimentazione, argomento di cui parleremo in un prossimo video. E qui arrivo al vero punto debole del libro, a parte l'assenza dell'indice nella parte finale, c'è comunque quello dei contenuti, il libro si intitola Scienza, Fisiologia, Teoria dell'allenamento. Marran manca quindi della parte relativa alla preparazione delle gare, è previsto un secondo libro nel primo trimestre 2021, nessuna pressione Daniele, speriamo che nei prossimi mesi i podisti italiani possano avere le nuove tabelle di 5, 10, 21 e 42 km per preparare le maratoni primaverili. Io penso che se siete podisti amatori non potrete mancare di avere nella vostra biblioteca personale questo bellissimo libro, sappiate però che vi dovete dedicare in maniera precisa per capirne fino a fondo i contenuti. Se non siete ancora convinti dopo i miei 5 minuti di video vi lascio parlare con il prodepodista che è venuto qui al mio giardino di casa e a cui ho spiegato le principali tecniche di marketing, vediamo se vi comincerà lui, sappiate che come al solito questo video è stato preparato prima dell'istituzione della zona rossa in Umbardia. Uno scurbato. Ciao Andrea, siamo un po' disturbati dagli uccelli però è normale, preferiamo stare all'aperto soprattutto negli ultimi giorni di sole di quest'autunno, come va? Allora diciamo che evitate le battutacce, a me piacciono molto i volatili, e quindi vabbè non mi danno fastidio, questo è un po' strano, sembra una cornacchia, non riesco a capire cosa sia, però vabbè. Siccome nei prossimi giorni sarai a casa, non potrai correre, avrai molto tempo per leggere, uno dei libri che stai leggendo è quello di Daniele Lucchi, Run, cosa ne pensi? Guarda, intanto lo ringrazio perché mi ha tenuto in considerazione, non solo a Max, anche a me ha detto che sono simpaticissimo, eccetera. No, guarda, se in questo periodo abbiamo letto la Bibbia della nutrizione, qua abbiamo una Bibbia degli allenamenti, quindi davvero un libro, a parte che si legge molto bene, bello, già che grande è così, anche per noi ceccati è bello da leggere, è un atlante, è un atlante, direi che è un atlante della corsa, Mizega, lui ha fatto un lavoro della Madonna qua dietro, guarda, è davvero un lavorone che ha fatto, guarda solamente qua gli indici, è tanta roba, ci ha speso un sacco di tempo, mi sembra molto preparato, mi sembra, è molto preparato, bravo, 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 un bel libro, davvero si legge davvero bene. Tra l'altro sappiamo che in due parti, di conseguenza poi dovrai anche leggere la seconda, che invece parlerà più di allenamento, che invece parlerà un po' più della parte pratica degli allenamenti. Come hai visto la parte relativa ai test? Allora, a me piacciono tanti i test da una parte, perché comunque vi danno una fotografia di quello che siete, di quello che sarete poi, nel senso ripetere i test. Sì, ecco, guarda, è bella quella parte, perché comunque ti fa una fotografia di quanto sei, diciamo, pronto, di quanto non sei pronto, e poi comunque sono, secondo me, ripetibili poi nel futuro, anzi, devono essere ripetibili, per vedere quanto sei migliorato. I test di mobilità, di saltelli, ho visto, sono tutti da provare, sono cose carine, secondo me che sarebbero da fare in questo periodo qua, da sfruttare questo periodo di lockdown, dove comunque magari le gare sono lontane, quindi possiamo partire, e possiamo partire in questa maniera. Tutti i test che propone Libero li farei subito al volo, così poi da vedere in primavera se siamo migliorati. Una delle principali osservazioni, che comunque è abbastanza teorico, so che negli ultimi anni non sono usciti davvero libri di questo spessore. Sì, devo dire che ti dà molte pillole, ti dà molte informazioni, che secondo me il runner di oggi, che magari si avvicina all'atletica, o che magari sta già correndo da un pochino, queste cose gli servono davvero tanto per migliorare. Ci sono davvero molti spunti interessanti. Lo dico davvero perché ho visto proprio differenze con altri libri che magari non ti portano un punto, invece questo è abbastanza diretto. Ultima domanda, secondo te a chi è adatto questo libro? Assolutamente a tutti, anche secondo me non si smette mai di imparare, soprattutto a chi pensa di essere arrivato va benissimo questo libro, anche solamente per fare dei confronti sui test che faccio, anche per me che già comunque seguo qualcuno è un buon modo per vedere se quello che sto facendo è giusto, se quello che sto facendo è sbagliato, se posso aggiungere qualcosa o togliere dai miei allenamenti o comunque dico un runner normale e imparare molte cose nuove da fare o diverse. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Tra l'altro sono felice che siate arrivati fino a qui, io sono Massi, nei prossimi giorni cercherò di preparare altri video, fatemi sapere qui sotto di che cosa vorreste che io parlassi, qui nel quaderno rosso ci sono alcune idee che sto sviluppando per rendere più ricco di contenuto in questo povero canale, nel frattempo se potete continuate a correre, Stay strong, ci vediamo alla prossima, spero che sarà molto presto, ciao!